In un'era fatta di tecnologie ed innovazione, la digitalizzazione delle imprese non è soltanto un'opportunità, ma anche una necessità per restare competitivi, non farsi schiacciare dalla concorrenza e avere successo nel settore in cui si opera. E proprio di digitalizzazione aziendale si è parlato stamani a Pescara nel corso di un incontro organizzato da LegaCop Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti Pescara. Luca Mazzali, presidente di LegaCop Abruzzo, dunque la digitalizzazione delle imprese cooperative, leggevo proprio nel tema del suo intervento, un percorso indispensabile. Sì, è fondamentale, rischiamo di essere quasi fuori tempo massimo perché oggi le connessioni tra imprese che siano in forma cooperativa sono altra forma e mercato, legato strettamente al mondo digitale, alla capacità di rappresentarsi, alla possibilità di connettersi, alla possibilità di rendere più fruibile e immediato attraverso il sistema digitale tutte le informazioni e le richieste di contatti, in questo c'è molto da fare. Nel corso dell'incontro Mazzali ha illustrato anche i risultati di un sondaggio fatto all'interno delle aziende aderenti a LegaCop. Dei dati è emerso che le cooperative associate in Abruzzo sono 161 per un totale di 15.509 soci. Il valore della produzione totale ammonta a 222 milioni di euro e il patrimonio netto ammonta invece a 47 milioni. Alla 2 ottobre scorso, ha ricordato ancora Mazzali, è stata inviata una newsletter a tutte le imprese associate invitandole a compilare il sondaggio per fotografare lo stato di maturità digitale delle stesse e la loro capacità di implementare le tecnologie abilitanti e le innovazioni organizzative. Digitalizzare un'impresa, un'azienda comporta sicuramente degli investimenti, delle spese, ma quali i benefici che si possono trarre? I benefici sono molteplici, ci sono degli impatti sui sistemi produttivi, chiaramente dipende moltissimo dai settori di appartenenza, ci sono opportunità in termini di mercato, di ampliamento di mercato e poi ci sono le ottimizzazioni su quelle che sono invece le strutture, magari consolidate da tempo sul territorio, di modelli cooperativi che funzionano molto bene, ma che per continuare ad essere competitivi in un mercato che va sempre più in fretta, hanno bisogno di aggiornare competenze, tecnologie e anche il mindset, proprio una cultura di impresa.